Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul canale di Rision, io sono lo sconosciuto e bentornati in una nuova recensione. Oggi vi voglio parlare di Red Sparrow, un film che mi interessava abbastanza, principalmente per la presenza di Jennifer Lawrence come attrice protagonista. Un'attrice che io adoro, probabilmente una delle mie preferite. E poi mi aveva anche gasato il trailer, sembrava un interessante film di spionaggio ed azione, con anche un po' di thriller. E poi è stato un film anche abbastanza pubblicizzato, alla fine i suoi trailer sono stati lanciati durante il Super Bowl, quindi non era un film che secondo me doveva passare in sordina, ma un film comunque già di più largo interesse. Quindi non vedevo l'ora di vederlo, sono riuscito a recuperarlo subito, appena uscito, e adesso ve ne parlo e questa recensione, a causa un po' degli Oscar eccetera eccetera, arriverà un po' più in ritardo. Ma vabbè, non mi dilungo ulteriormente, iniziamo con la recensione. Prima la sigla. La pellicola racconta sostanzialmente le vicende proprio del personaggio principale interpretato da Jennifer Lawrence, che è questa cittadina russa che finisce per diventare una particolare spia russa chiamata Red Sparrow. Questo gruppo di ragazzi e ragazzi che vengono specializzati nel diventare un tipo di spie che utilizzano l'attrazione sessuale e sentimentale per raggirare appunto le proprie vittime e ottenere da loro confessioni o comunque svolgere in poche parole il lavoro di spie utilizzando proprio il loro fascino, la loro capacità di capire la mente di uomini e donne e di attrarli non solo sessualmente, ma anche proprio mentalmente e sentimentalmente. Come vi ho detto, quindi, mi aspettavo una sorta di film di spionaggio con un po' di azione, con molta tensione, con un po' di elementi thriller, eccetera, eccetera, ma mi sono trovato davanti a tutt'altra cosa. Per iniziare intanto c'è pochissima azione. Ci sono due o tre scene d'azione anche belle, ma che non, diciamo, ti fanno dire, ok, questo è un film action. Assolutamente sono due o tre scene d'azione molto semplici e sporadiche, appunto. Quindi già per questo lato mi ha un po' deluso, soprattutto vedendo quello che il trailer invece ci mostrava. E poi anche il lato dello spionaggio, se devo dire la verità, non è per nulla presente. Infatti, più che una storia di spie, è una storia di vita di questa ragazza che viene costretta dal suo governo a diventare praticamente questa Red Sparrow. E ok, è interessante perché ti fa vedere un po' lo spaccato della Russia, ti fa vedere, diciamo, il contrasto tra lo spionaggio americano e lo spionaggio russo in questo periodo. e crea uno spaccato interessante, facendo anche vedere un po' varie implicazioni morali di entrambi i paesi, senza essere né dalla parte né dall'altra. Però non è assolutamente, secondo me, uno spy movie effettivo. Cioè, alla fine, è semplicemente quasi una storia, un racconto, una storia di vita, una storia di un personaggio che vive queste vicende che si avvicinano al lato dello spionaggio, ma ci rimangono, secondo me, ben distanti. All'inizio sembrava interessante tutta l'idea proprio di queste e di questi anche Red Sparrow, perché ci sono anche degli uomini, che appunto sono delle spie addestrate proprio nell'attrazione fisica, sostanzialmente, nell'attrazione sessuale. E tutto questo tema poteva essere interessante, perché appunto i capi esigevano da loro l'agnentamento dei propri sentimenti, non provare disgusto nell'avere rapporti sessuali con persone che non conoscono, con le quali non vogliono averli in realtà. Tutte queste implicazioni potevano essere interessanti e adatte ad un film di spionaggio. Ma poi questo tema, che all'inizio sembra molto preponderante, viene lasciato un po' lì, viene abbandonato, secondo me in maniera sbagliata, perché uno dei grandi errori che compie questo film, proprio nella narrazione, nel raccontarti le cose, è che ti introduce tantissimi elementi, ti introduce tantissimi colpi di scena risvolti di trama, che però non vengono mai perseguiti e portati avanti. È un film che cambia continuamente in maniera abbastanza fastidiosa. Non c'è, secondo me, poi così tanta tensione, si avverte, certo, un minimo di ansia, di pathos, però non è quella tipica tensione un po' misteriosa da spy movie. Ci troviamo davanti a un film che più che altro racconta le cose, ci sono dei colpi di scena interessanti, dei risvolti di trama un po' più complicati, tradimenti, sotterfugio, eccetera, eccetera, ma non così eclatanti e non messi in scena troppo bene e quindi non rimani, poi, secondo me, così soddisfatto. È proprio la storia che di base non si presta, per come viene raccontata, ad essere uno spy movie d'azione. È semplicemente un racconto con il tema dello spionaggio. In più, il film si sofferma principalmente, come ho detto, sul personaggio di Jennifer Lawrence, questa ragazza che viene costretta, praticamente, dallo Stato a diventare una Red Sparrow, come ho detto, ragazza che riesce a, diciamo, accettare quello che lo Stato le impone, quello che gli viene imposto, e riesce ad accettarlo a, come dire, diventare forzatamente falsa, a far finta di voler diventare realmente una Red Sparrow che serve il suo paese, e poi, in verità, lavora ancora in maniera nascosta per cercare di uscire da quella brutta situazione, per cercare di avere un ritorno personale, in maniera proprio da avere salva la vita, detta in poche parole. Ed è interessante, effettivamente, vedere come questa ragazza, che in realtà soffre molto, cerca di fare di tutto e di più, ha anche delle brillanti idee, proprio per cercare di scappare dalla brutta situazione nella quale si trova, con pierra, giri, macchinazioni, non si capisce mai quello che realmente vuole fare, e la Lawrence è stata bravissima, ovviamente, ad interpretare questo personaggio, nella sua sofferenza morale, fisica, è stata molto brava anche, diciamo, a regalare sensualità al film, infatti, la pellicola punta anche molto nel creare un po' un'atmosfera tesa, dal punto di vista sensuale e sessuale, e questo più o meno gli riesce nella parte iniziale. E l'attrice, comunque, è stata brava, solamente che è il personaggio che non è così scritto bene. Forse è la cosa migliore del film, ma tutto quello che gli fanno fare, tutto quello che poi ruota attorno alle sue scelte e a quello che fa, non è poi così interessante. La narrazione poi presenta, secondo me, altri difetti. In certi momenti diventa veramente complicata, soprattutto perché, come ho detto, il film non riesce mai a perseguire una linea narrativa che inizia. Cioè, la inizia e poi la cambia. E questa cosa mi ha dato parecchio fastidio, si crea molta confusione. A volte il film o è troppo complicato oppure troppo banale. Proprio sul finale, a un certo punto, non capisci più niente, perché è talmente difficile, messo in scena non troppo bene, che proprio ti ti confondi. Poi ci sono molti spiegoni oppure cose che non vengono spiegate. Diciamo che dal punto di vista narrativo non è brutto, ma non è nulla di che. Per quanto riguarda il punto di vista tecnico, sono rimasto abbastanza deluso, perché Francis Lawrence, il regista di questa pellicola, all'inizio non me ne sono accorto, ma poi quando ho letto il regista ci sono rimasto bene all'inizio, male poi alla fine, perché, appunto, Francis Lawrence è il regista di vari Hunger Games, ha già lavorato con la Lawrence ed era stato abbastanza bravo. Qua, purtroppo, non mette, secondo me, nulla di interessante. È veramente una regia normale, non brutta, normale, basilare, anzi molto statica, cosa, secondo me, sbagliata per questo tipo di film. E a volte utilizza dei grandangoli in una maniera sbagliatissima, cioè proprio a caso. Non mi sono per nulla piaciuti, tra parentesi, probabilmente ho usato degli obiettivi che non erano di qualità o forse voleva dare un effetto particolare perché i contorni del grandangolo tendono a distorcere e i buoni grandangoli sono quelli che non fanno vedere questa distorsione. Invece lì il contorno si vedeva distorto, la cosa mi dava fastidio. Forse voleva fare qualche effetto particolare che, secondo me, non gli è riuscito. Vabbè, comunque, al lato tecnico poi non è nulla di che. È normale, non compie eccessivi errori. Forse il montaggio a volte rende il film un po' lento, fastidioso da seguire in certi momenti. Però non è che il film annoia, perché comunque scorre abbastanza bene e lo segui, solamente che una volta uscito dalla sala non ti rimane impresso. Proprio perché è un film abbastanza dimenticabile e passabile, se non per la Lawrence. Ci sono altri comprimari comunque interessanti, Jeremy Irons e altri nomi comunque un minimo rilevanti, di Joel Edgerton, che è un po' il coprotagonista di questa pellicola, che è un personaggio abbastanza interessante. Lui l'ha interpretato abbastanza bene, anche se non è nulla in confronto alla presenza di Jennifer Lohne. Quindi, per concludere, posso dire che, secondo me, Red Sparrow è uno di quei film che intanto tradisce le aspettative, perché non risulta essere quello che si vedeva dal trailer. E poi è anche uno di quei film dei quali poi ti dimentichi molto facilmente, perché non ti rimangono impressi, non sono nulla di particolare, non sono fatti male, ma neanche sono così memorabili. Ti ricordi giusto della performance di Jennifer Lawrence, del suo personaggio, ma per il resto non ti lascia proprio niente, ti lascia anche un po', come dire, vuoto dentro, così, impassibile. Vi consiglio di andarla a vedere comunque, ma ho già sentito tante altre persone che non lo hanno apprezzato. Quindi io gli voglio dare un 6-, perché secondo me è riuscito, ma fino ad un certo punto, soprattutto gli voglio dare un 6-, perché avevo comunque un minimo di aspettative per questo film, che le ha tradite e soprattutto non mi ha preso quanto mi aspettavo. Quindi questo è il mio parere, fatemi sapere il vostro nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo appuntamento, vi ringrazio, guardate i link per i vari social in descrizione, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!